Il concept Nissan Arizon, creato da un team cinese sfruttando l'esperienza globale di Nissan nei veicoli elettrici, ha debutato all'auto Shanghai 2023. Il concept Nissan Arizon ha un design esterno accattivante e una cabina riccamente arredata che emana un caldo vagliore high-tech. Costruito sulla piattaforma CMFEW, l'Arizon presenta un baricentro basso e una spaziosa cabina all'aperto senza montanti con un ampio tetto in vetro oscurante automatico. Progettato per essere incentrato sull'uomo, il concept Arizon presenta un nuovo assistente personale virtuale chiamato Eporo, che può interagire con i passeggeri in modo umano e fornire risposte accurate utilizzando il tempo, il meteo e altri dati.